Saluto da Dottor Palmas e da Iana. Siamo dalla Moldavia, in diretta dal Dipartimento Sviluppo e Ricerca Bocca Bionica qua in Moldavia, dove ogni anno riabilitiamo migliaia di bocche, di pazienti che hanno perduto completamente i denti. La Moldavia è il paese più economico d'Europa, dove arrivano pazienti che devono fare lavori molto complessi. La nostra pratica quotidiana comprende non solamente andare a ricostruire i denti ai pazienti, ma essendo medici la nostra pratica deve comprendere anche la scolarizzazione del paziente alla prevenzione e soprattutto poi al mantenimento dei lavori che andiamo a fare qua in Moldavia. Quello che noi facciamo tutti i giorni è di routine qua al nostro Policlinico in Moldavia. se non ci conosci, noi siamo un centro specializzato nella riabilitativa estrema della bocca, che significa simulare con materiali artificiali tessuti completamente perduti, quindi denti che sono stati perduti, radici, osso, gengive con materiali artificiali. Questi materiali artificiali sono dei materiali che possono comunque negli anni dare dei problemi, sono dei materiali che possono raccogliere del cibo e se noi non andiamo a pulire sistematicamente in maniera regolare queste protesi che poi vengono montate nella bocca del paziente, e alta la probabilità di andare a sviluppare negli anni dei problemi che possono essere piccoli, più o meno gravi o abbastanza importanti. Questa diretta di oggi serve a dare una soluzione e a suggerire quello che è il protocollo corretto di mantenimento a tutti quei pazienti che negli anni si sono curati all'estero. Il nostro policlinico in Italia ha sviluppato negli anni una rete di centri assistenza, che vedi qua sulla cartina geografica, che si occupano proprio di andare a assistere i pazienti che si sono curati all'estero. assistere per quanto riguarda piccoli problemi che possono essere presenti dopo le cure o che si possono presentare a distanza di anni dopo le cure all'estero, o la normale igiene quotidiana trimestrale, quadrimestrale che deve essere eseguita. Ecco, il punto è proprio questo. Molti pazienti si dimenticano che se hanno perduto i denti è per un motivo. Delle volte ci sono delle cause genetiche, delle volte queste cause genetiche sono abbinate a delle cattive abitudini del paziente stesso e delle volte sono abbinate anche a un'ignoranza di base, nel senso buona ignoranza, che non si sa quello che si deve fare a casa per mantenere i denti e le protesi. Quando si va all'estero e si riabilita completamente la bocca, si fanno delle cure, il percorso non è terminato, perché da quel momento in avanti bisognerà iniziare a fare delle cose che sono fondamentali poi per mantenere i denti all'interno della bocca. Se non ve le spiega nessuno, di certo non ve lo spiega il giornalaio sotto casa come vanno mantenute queste protesi, e se non l'ha fatto la clinica che vi ha curato, sicuramente avete alta probabilità negli anni di avere dei problemi. Ci sono delle cose che potrete e dovrete fare e delle cose che non potrete invece più fare. Ci sono dei cibi che non potrete più mangiare e dei cibi che invece potrete mangiare con sicurezza. La bocca, come noi la chiamiamo la bocca bionica, per rendere l'idea che è un qualcosa di artificiale, non vi dà degli input sensoriali come il dolore, la sensazione al calore, la tattilità che vi davano invece i denti naturali. La bocca artificiale è un sistema che non ha delle spie, chiamiamole così, che vi allertano nel caso ci siano dei sentori di qualche problema. Per questo è fondamentale istruire il paziente su quello che è il protocollo poi di mantenimento di questi lavori. Voi immaginate di avere un'automobile che non ha il quadro con le lucine, con le spie, con la lancetta che vi indica la benzina rimasta nel serbatoio. Non vi indica la velocità a cui state andando. Voi praticamente immaginate di guidare quest'automobile per chilometri e chilometri senza avere un'idea di quando sta per terminare la benzina o a che velocità state andando. Avere la bocca artificiale è un pochino così. Avete dei denti nuovi in bocca che non vi danno sensibilità, non vi avvertono nel caso ci siano i problemi e se non c'è una persona specializzata che sa rilevare i problemi e che andate in maniera regolare a trovare per fare questo check up, c'è il rischio di finire la benzina o finire fuoristrada per eccessiva velocità. Questo era un esempio per renderti quella che è l'idea del rischio che si corre a non avere una figura di fiducia nella propria regione che si occupa di dare risposta a tutti questi piccoli problemi che si possono presentare. Quello che vedi a schermo è per esempio una checklist della visita di controllo che viene eseguita ai nostri centri assistenza. Andare dall'igienista a fare un controllo non significa solamente andare a pulire i denti. Ok, questo che vedi qua, questo che vedi qua a schermo è un kit per esempio di igiene domiciliare studiata apposta per pazienti che hanno perduto completamente i denti. A parte questo ci sono poi delle operazioni di igiene professionale che vengono fatte dall'igienista dentale. L'igienista dentale utilizza degli strumenti a getto d'acqua e bicarbonato che servono a togliere quello che è il tartaro dalle protesi che si deposita negli anni. Oltre questo ci sono tante altre cose che deve verificare che vedi qua in questo modulo come per esempio se ci sono le viti allentate delle protesi, se ci sono rotture sulle protesi, se è presente mobilità, sanguinamento vicino agli impianti, placca, pus, verificare se non ci siano degli scollamenti, delle tasche sugli impianti, se gli abatment ovvero quegli elementi di connessione alla protesi sono abitati, che non ci siano tensioni e soprattutto decidere poi quelli che sono i materiali da otturazione delle protesi e infine andare a compilare un questionario che alla fine vi dirà dopo quanti mesi dovrete tornare di nuovo a fare il check up ai box, chiamiamolo il pit stop, il pit stop, il controllo generale che non è uguale per tutti, non è che l'igienista lo devi vedere ogni sei mesi, dipende, ci sono pazienti che hanno bisogno di vederlo ogni due mesi, pazienti che hanno bisogno di vederlo ogni sei mesi, pazienti che ci vanno una volta all'anno. Non c'è una regola uguale per tutti. Io ti posso fare l'esempio, ogni quanto per esempio lavi l'automobile, Iana? Quando si sporca? Quando si sporca, questa è la risposta corretta. Ok, sarebbe scorretto dire lavo l'automobile una volta all'anno o alla settimana. Se vivi in campagna o lavori in campagna e vai tutti i giorni in campagna e c'è fango, probabilmente la lavi ogni due giorni o una volta al giorno. La sporchi di più. Questa è la regola generale. Se chi ti visita non fa un'analisi sistematica di quello che è il livello di rischio della tua bocca e soprattutto il livello di usura dei materiali o le problematiche presenti, non può dirti esattamente quando devi rifare il controllo. I nostri centri assistenza sono allineati con questo protocollo, ovvero si rilevano una serie di dati dalla bocca del paziente, radiografia, si fa un check di tutte le componenti protesiche, si fa un check dei denti rimasti in bocca, si fa un check delle gengive e dell'osso attorno agli impianti dentali o alle radici. Dopodiché insieme al paziente viene compilato un questionario che ci aiuta con un protocollo internazionale a stadiare quella che è il tempo, la valutazione del rischio, chiamiamola così, del paziente e quindi quando dovrà tornare. Quello che vedi qua a monitor, per esempio, è il risultato di uno di questi questionari. Questo questionario ci dà alla fine come risultato quattro mesi. La recall, dove dovrà essere fatta l'igiene di profilassi più l'educazione all'igiene e un check, quindi un controllo nuovamente del fattore di rischio, dovrà essere rifatto tra quattro mesi. Abbiamo la firma poi del paziente che è stato messo al corrente appunto di quelli che sono i problemi riscontrati all'interno della sua bocca. Unitamente a questo noi andiamo anche a rilevare delle fotografie della bocca del paziente, fotografie dei denti, ma soprattutto andiamo a fare delle fotografie anche andando a macchiare i denti del paziente. Così possiamo condividere col paziente quelle che sono le informazioni in maniera visiva di dove i denti sono sporchi. Un conto è andare dall'igienista e avere l'informazione che i tuoi denti sono sporchi. Un conto invece è vedere dove sono sporchi. Se io ti do un fucile in mano per colpire per esempio un bersaglio e ti bendo, è difficile andare a colpire il bersaglio. Ma se io ti tolgo la benda e tu puoi vedere dove sta il bersaglio, è molto più facile andarla a colpire e quindi in questo senso andare a pulire i denti. Se tu ti aiuti a casa con il colorante che ti viene consigliato dal nostro centro assistenza e se il nostro centro assistenza ti fa vedere dove hai più difficoltà e dove bisogna pulire la protesi, è molto più probabile che impari e mantieni per vent'anni i lavori fatti all'estero. Se non hai mai fatto questo, probabilmente è il momento di iniziare, altrimenti c'è alta probabilità che butti i lavori fatti all'estero. Oltre questo è necessario andare a compilare questa checklist, come ti ho detto prima, che serve a rilevare tutta una serie di parametri di rischio dalla bocca. Il paziente deve essere poi informato su quello che è il protocollo domiciliare che deve essere eseguito tutti i giorni a casa e che troverai nel link qua sotto. Ti consiglio di entrare su questo link perché ti permetterà di avere anche te in maniera condivisa quello che è il protocollo corretto di igiene. Tanti chiedono per quanto tempo serve questo protocollo di igiene o pulire in questa maniera, in sequenza, insomma per quanto tempo, ecco, serve per sempre, no? Per sempre, i denti vanno puliti tutta la vita, la faccia, le mani, le lavi tutta la vita. Tutta la vita, ogni giorno e non solo una volta, quindi ogni volta che, come quando sporcate le mani, ogni volta le lavate giustamente, anche i denti uguale. Mangiate, li lavate. C'è tutto un processo che adesso vi spiegheremo, che è molto importante. Magari, tanti mi hanno chiesto quando andavo a fare le lezioni, insomma, Yana, ma devo usarlo per un anno o due anni, insomma, o prima di andare a fare la visita? Mi faccio, no, sempre, tutta la vita, mi fa, madonna, ma è un incubo, devo stare solo in bagno a vivere, insomma, per lavarli. E vi abituate. E veramente, sì, non sentite magari, è una bocca bionica, quindi non sentite il caldo, il freddo, però sono i denti che bisogna mantenerli, sono gli impianti, la vostra gengiva, è molto importante questo processo che adesso vi spiegheremo. Prima di tutto io inizierei col fatto che se non siete pazienti del dottor Palmas, se non vi siete curati in Moldavia, non vi dovete preoccupare. I nostri centri assistenza assistono tutti i pazienti che si sono curati in Italia, che si sono curati all'estero, in Francia, Germania, siamo medici, ok? Non facciamo discriminazioni, anzi, io mi arrabbio delle volte nei confronti di chi dice ti sei curato all'estero, allora io non ci metto più mano. Sì, ho sbagliato. È una cosa abbastanza brutta perché siamo medici, non siamo, è come dire, tu vieni, che ne so, dall'Africa, io non ti curo. È abbastanza brutto per un medico adottare certe tesi. Sei un medico, devi curare i pazienti che siano già stati curati in passato da altri dentisti, perché sono pazienti che necessitano di assistenza, e se sei un medico devi poter offrire loro assistenza incondizionata, a prescindere di dove vivano, da dove arrivano, e soprattutto dove andranno un domani. Più che pazienti sono anche delle persone. Persone. Persone che vivono, che hanno una famiglia, che magari hanno sofferto per anni, hanno bisogno di aiuto. E se non ci diamo una mano, noi non ci aiutiamo, non lo farà nessun altro. Noi lo facciamo. I nostri centri assistenza aiutano indiscriminatamente tutti i pazienti che necessitano di questo tipo di supporto e assistenza dopo le cure. Ti faccio anche un esempio. Quando ti dicono non andare all'estero perché poi nessuno metterà mano sui tuoi denti, è una bugia, perché in realtà se tu ci pensi, probabilmente nella vita hai già cambiato almeno 3, 4, 5 dentisti. È un po' come dire che il parrucchiere dove andrai domani non ti taglia i capelli perché in passato te li ha già tagliati un altro parrucchiere. Non è così. È assurdo, no? In realtà tutti i dentisti, o quasi tutti, quando un paziente apre la bocca, un nuovo paziente che si siede nella loro poltrona, molti pazienti hanno già corone, capsule, fatte da altri dentisti. Poi che quel dentista fosse africano, albanese, moldavo, non c'è scritto sulla corona. Anzi, è pratica quotidiana di lavorare su bocche che già in passato sono state curate. Alzi la mano il dentista che quando cura un paziente, la bocca è vergine, una bocca, sì, bambini, ragazzi, ci sono pazienti che non hanno mai avuto carie, ma molti pazienti che vanno dal dentista e hanno problemi, e problemi ricorrenti in passato hanno già fatto cure dal dentista. Quindi quando ti dicono se vai all'estero, nessuno ti curerà poi in Italia, perché da dove riconosce che quella protesi è stata fatta in Moldavia? Magari è stata fatta a Milano o a Padova quella protesi. Non cascarci. Questa è retorica che serve per fare cartello, evitare che i pazienti prendano delle decisioni, e soprattutto non vedo una buona filosofia di fondo nell'andare a non prestare assistenza come medico a pazienti malati che si trovano in stato di malattia. Quello che bisogna fare a casa per mantenere i lavori fatti all'estero o in Italia è munirsi di un kit di igiene dentale composto di diversi strumenti che ora Jana vi spiega. È un kit composto di tanti strumenti che sono tutti importanti. Partiamo da dire questo. Sì, partiamo anche che una volta... Perché lo tengo? No, lo tengo io, lo tengo io, ti aiuto. Una volta che voi fate la chirurgia, giusto? Avete fatto la chirurgia, la gengiva si è gonfiata, si è gonfiata e si è irritata. Cosa usiamo? Che spazzolino? Magari a tanti fa male, dicevo non mi lavo visto che ho l'infiammazione o vanno a grattare con spazzolini che non sono proprio adatti subito dopo la chirurgia a usarli. Nel kit che vediamo è proprio tutto il percorso dall'inizio, proprio dalla chirurgia, le fasi subito dopo la chirurgia. Nella prima fase di chirurgia, dopo aver messo le protesi, i provvisori, usiamo questo spazzolino, è molto morbido. Perché è così tanto morbido? È per lavare appunto questa protesi provvisoria, per non ferire le gengive. Aiutiamo e diamo una mano alla regenerazione appunto della gengiva che si riprenda e si stabilisca la sua forma giusta, corretta. Senza traumatizzarle e per questo motivo è importante usare degli strumenti che sono molto delicati, come questo spazzolino che ha delle setole morbidissime. Non a caso è uno spazzolino che si chiama chirurgico, dopo la chirurgia si usa. Dopo un mesetto, dopo che si è ritirata la gengiva, si è calmata tutta la bocca, passiamo a un altro spazzolino. Questo qua non lo buttiamo però via, lo mettiamo nella scatolina. Servirà sempre, un giorno quando si infiammerà, magari entrerà il cibo, non so, vi tagliate o c'è qualche ferita, riprendete questo spazzolino morbido. Paiuterà parecchio. Sì, non andate poi a traumatizzare di nuovo, nuovamente la gengiva. Dopo un mese che avete usato questo spazzolino, passate a questo qua. C'è i dentini, diciamo così, sono più diversi, è medio, non è duro e non è soft, morbido, è medio. È uno spazzolino che permette ed entra appunto, grazie a questi dentini che sboccono fuori, permette a una pulizia precisa perché entra proprio nelle fessure. I denti, le protesi che facciamo, che siano provvisori o definitivi, sono rifiniti come i denti naturali, quindi avrete gli spazi dove il cibo comunque entrerà e si posiziona se non andiamo a grattare, a pulire in quella zona lì. Quindi la pulizia è meccanica, non solo l'idropulsore o sciacquare la bocca, la pulizia è meccanica è molto importante. Come lavare i piatti, è come dire che basta il detersivo, serve anche la spugnetta. O sciacquare sotto l'acqua corrente. Avete mai pulito l'automobile con l'idropulitrice? Se non usate anche la spazzola, passate l'idropulitrice, togliete il fango, si asciuga la macchina ma rimane tutta polverosa, perché non avete usato lo strumento meccanico per rimuovere meccanicamente la polvere. Poi passiamo al secondo, questo è piccino, mignon, tutti diranno, ma a cosa serve, è così piccolino, insomma. Aspetta che la metta a monitor, vediamo se ce l'abbiamo a monitor questo. Eccolo qua. Ho saltato dei passaggi. Ecco, questo può succedere che con i provvisori, i provvisori come vengono messi sugli impianti? Giustamente si avvittano, quindi ci sono dei fori su quali vengono avvitate appunto le protesi. Questi fori sono chiusi con un'otturazione provvisoria. Questa è l'otturazione in base al cibo, magari se è troppo caldo, o non so, può saltare, questa è l'otturazione può andare via. E' molto importante che dentro questa fessura voi andate pulite molto accuratamente, perché il cibo appunto si incastra e entra un po' dappertutto. Può capitare che si perde l'otturazione e questa otturazione si pulisce, possiamo mettere in emergenza, per esempio aiutandoci con un kit che vendono tranquillamente in farmacia, che è da otturazione provvisoria, una pastina per tappare quel foro che dopo con la saliva diventa dura, fino a prendere l'appuntamento col centro assistenza che si occuperà di tappare definitivamente quel foro. Non preoccupatevi, non è niente di grave se si stappa a questa otturazione. Vediamo questo invece, questo spazzolino a becco di flauto. Questo è molto interessante perché è piegato, perché è piegato? Appunto per la parte interna, sia che sull'arcata superiore e quella inferiore, però all'interno, tra la vostra di gengiva e la gengiva con l'artificiale. Va proprio in mezzo, gli spazi che si formeranno quando si ritira la gengiva, lì entrerà il cibo. Andate veramente molto accuratamente, da destra fino a sinistra andate pulite molto bene tutto. È sottile ed entra dentro queste fessure, in questo modo appunto permette di levare via il cibo. Vediamo un altro strumento che in pochi conoscono, ed è questo. Il filetto non ce l'ho, però sulle immagini vedete che il dottor Palmas qui è inserito dalla parte esterna e ha fatto fuori uscire il filetto dalla parte interna. Praticamente da un impianto all'altro impianto fa questo lavoro qua, gratta e pulisce tutta la parete. Con una spugnetta che non causa assolutamente nessun problema alla gengiva. Questa è la mia lingua e questo è il pulisci lingua. Come vedete è un po' traumatica questa immagine, però serve a farvi vedere quella gelatina acida che rimane sulla gengiva. Questa è la causa del pH basso all'interno della bocca che delle volte scatena l'infiammazione gengivale, la piorrea. Di notte, di solito cosa facciamo? Noi dormiamo giustamente, ce l'abbiamo i denti, abbiamo detto mi lavo la sera, vado a dormire, mi sveglio la mattina e sono puliti. No, non è proprio così perché alla mattina quando vi svegliate il pH durante la notte diventa ancora più acido. Dormendo e i batteri cosa fanno? Anche dormendo con la bocca chiusa magari i batteri nascono, sono fanno a feste, crescono e abbassano il pH. Sì. Questo invece è un filo interdentale che io ti consiglio di verificare su Amazon. Ha una parte rigida che serve proprio a far entrare il filo nel caso non riesci a far passare il filo standard sotto la tua protesi abitata. Tutti gli strumenti che ti abbiamo fatto vedere sono degli strumenti che trovi anche su Amazon. Io ti consiglio di andare su Amazon, cercare tutti questi attrezzi che sono, che fanno parte poi del kit che dovresti utilizzare a casa per fare l'igiene domiciliare. All'inizio starete più tempo dietro a lavare i denti, poi dopo vi abituate, sarà una cosa veramente meccanica e molto veloce. Ci sono anche gli scovolini, quelli entrano proprio nei punti dove pensi che non riusciresti mai ad entrare a pulire. Riesci proprio a... e sono di diverse misure, quindi in base allo spazio che si formerà le usate, dal più piccolo spazio a quello più grande. E questa era Iana, io sono dottor Palmas dalla Moldavia, un dentista sardo in Moldavia che da anni vive e lavora all'estero. Ed era un piccolo riassunto di quella che è la pratica corretta che dovresti fare a casa. Serviva per mettere l'accento sul fatto che oltre all'igiene domiciliare è fondamentale essere assistiti da un centro assistenza poi in Italia, nella tua regione. Se non hai ancora un centro assistenza e quindi sei in ricerca di una figura che ti possa aiutare per tutta la vita a mantenerti in bocca e lavori fatti all'estero e quindi continuare ad aver risparmiato invece che aver buttato i soldi, se non ce l'hai sappi che puoi fare sicuramente... Ci puoi contare. Puoi contare su di noi e puoi fare affidamento sui nostri centri. Scrivici in privato oppure contatta i numeri di telefono che troverai qua in questo post. Un saluto dalla Moldavia, stai a casa e attieniti a quelle che sono le linee guida della tua regione, della tua nazione e ci vedremo presto, spero, nei prossimi video che approfondiremo quello che è il lavoro quotidiano che facciamo con i nostri centri assistenza. Ciao!